Oggi in Consiglio regionale è stata approvata una nostra mozione presentata apposta sul tema della cultura perché purtroppo a Roma nel decreto Brai che riguarda il decreto cultura di fatto hanno previsto lo scippo della forum dell'UNESCO dal comune di Monza, quindi dalla nostra terra, dal nostro territorio, dalla nostra Lombardia e in favore, guarda caso, di Firenze con uno stanziamento addirittura di 400 mila euro. Pensate voi, dicono che non trovano i soldi per i cassi integrati ma poi 400 mila euro per l'UNESCO a Firenze lo trovano. Invece in Lombardia, dove il forum l'ha sempre pagato la regione Lombardia utilizzando delle risorse assolutamente anche minori rispetto a tutto quello che a Roma è stato fatto, è stato stanziato, noi chiediamo ovviamente con questa mozione che marroni insettivi presso il governo ma soprattutto chiediamo ai nostri parlamentari, non solo ai nostri ma a tutti i parlamentari lombardi affinché si muovano per cercare di far sì che il forum dell'UNESCO resti a Monza, già pagato dalla regione Lombardia e che i 400 mila euro stanziati per Firenze invece vengano stanziati per questioni molto molto più urgenti come quelle per esempio legate al mondo del lavoro.